L'Associazione Culturale Francesco Lobue, RBE e RBETV ed E'Nostra hanno avviato una partnership. Lo abbiamo fatto con convinzione e ci siamo impegnati a informare i nostri ascoltatori e telespettatori della possibilità di affidarsi a un fornitore elettrico cooperativo che vende ai propri soci solo elettricità rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d'origine, come E'Nostra. A voler essere specifici, la transizione energetica è il passaggio dall'utilizzo di fonti di energia che emettono molti gas serra, come i combustibili fossili, petrolio, carbone, gas naturale, a fonti sostenibili, soprattutto quelle rinnovabili come il sole e il vento, che oltre al minor impatto sul clima portano con sé il vantaggio di essere inesauribili. L'uso smodato di combustibili fossili si inserisce però in un più ampio sistema economico e sociale che sempre più si chiede di abbandonare, perché non emette soltanto gas serra, ma anche diseguaglianze, sfruttamento, neocolonialismo, oltre a tante altre forme di inquinamento ambientale. Perciò il cambiamento non può limitarsi alle sole fonti di energia, deve avvenire all'interno di una transizione più profonda e generalizzata. Come dichiarano spesso i movimenti di attivismo ecoclimatico, non c'è giustizia climatica senza giustizia sociale. È questo che vogliamo raccontarvi all'interno di Kilowatt Talk. Ci concentreremo su alcuni aspetti cruciali della transizione, sia per raccontarli in modo chiaro, sia per includerli in un contesto più ampio, quello della nostra società. Ad accompagnarci lungo questo percorso non può che essere Enostra, fornitore cooperativo di energia elettrica rinnovabile, sostenibile, etica, che ha fatto di questo ragionamento una vera missione. Enostra è la prima cooperativa energetica in Italia che produce e fornisce solo energia esclusivamente rinnovabile, sostenibile ed etica, attraverso un modello partecipato e condiviso. L'energia di Enostra è 100% rinnovabile perché proveniente solo da impianti alimentati da alcune fonti rinnovabili, sole, vento, acqua. È escluso ogni tipo di fonte fossile non solo perché esauribile e costosa, ma per le gravi conseguenze che comporta su clima e ambiente. Ogni azione che facciamo ha un impatto, qualsiasi sia ha un impatto. E anche l'energia ha un impatto, anche se è 100% rinnovabile, è innegabile. Però noi per questo abbiamo un valore aggiunto perché promuoviamo un modello di energia che non è solo 100% rinnovabile, ma è anche etica e sostenibile. L'energia di Enostra è etica perché deriva da imprese soggette a una valutazione socioambientale lungo tutta la filiera. La valutazione premia le imprese più virtuose sotto il profilo di governance e trasparenza, di gestione ambientale e responsabilità sociale, con particolare attenzione ai lavoratori. e alle comunità locali che ospitano gli impianti. L'energia di Enostra è sostenibile perché attenta a minimizzare ogni possibile impatto sull'ambiente. Gli impianti a fonti rinnovabili sono infatti soggetti a ulteriori severi criteri di selezione stabiliti da un comitato tecnico scientifico per ciascuna delle fonti ammesse. L'energia di Enostra è partecipata e democratica. I soci sono informati e consapevoli. Possono scegliere non solo quale energia e come consumarla, ma anche di produrre e di condividere la propria energia, considerata un bene comune e non un semplice servizio da acquistare sul mercato. Ricevere l'energia da Enostra significa diventarne soci, avere la possibilità di partecipare alla vita della cooperativa, essere informati su tutte le attività, votare le risoluzioni durante l'assemblea annuale, indirizzando così in maniera diretta le scelte del proprio fornitore di energia elettrica. Con Enostra i soci hanno la piena partecipazione e il pieno controllo delle attività. Sono chiamati a votare il bilancio, e questa è una cosa importante, sono informati su tutto quello che la cooperativa fa e chiamati a esprimersi sulla destinazione degli utili. Siamo tra i pochissimi, forse quasi gli unici, a fornire solo verde, solo rinnovabile. Molti competitor invece hanno un portafoglio differenziato, forniscono rinnovabile e anche non rinnovabile. Il cliente che vuole essere sostenibile fa questa scelta per dei motivi, tra virgolette, etici che vanno al di là magari del puro risparmio energetico, cioè energetico ed economico sulla bolletta, che cosa fanno? sottoscrivono un'offerta di energia verde. Pagando le bollette generano il fatturato dell'azienda. Alla fine dell'anno il CDA dell'azienda si riunisce, vota il bilancio e decide dove va quel fatturato. Su questa parte, su questo processo, il cliente non ha nessun controllo, è diciamo un soggetto passivo. La sua scelta si limita a scegliere che tipo di consumo voglio avere. Molte aziende, magari che hanno un taglio multinazionale, possono decidere di investire il fatturato anche in approvvigionamenti o investimenti sulle fonti fossili. E al cliente che ha sottoscritto un'offerta verde, tutto questo sfugge e magari non è, diciamo, compatibile con le motivazioni della scelta iniziale. Con le nostre questo non si può avere per un duplice motivo. Uno è che fornisce solo rinnovabile, quindi non c'è questo pericolo. Due, che il fatto che di essere una cooperativa le consente di coinvolgere i soci in una partecipazione attiva e di dargli anche un potere decisionale sulle scelte che la cooperativa fa. E questo è il grande punto di forza. Ci siamo in 10.000 in tutto e non solo non c'è qualcuno che abbia un pacchetto di maggioranza, ma proprio non c'è l'idea che qualcuno possa investire tanti soldi. Di fatto nella nostra compagine ci sono due tipologie di soci. I soci cooperatori che diventano soci versando una quota di 50 euro e i soci sovventori che invece investono ma investono capitali che arrivano a qualche migliaio di euro. L'obiettivo di Enostra è trasformare l'attuale modello di produzione e consumo energetico verso un modello sostenibile ed equo. Per questo Enostra è impegnata non solo come fornitore di energia elettrica, ma anche alla costruzione di nuovi impianti di produzione collettivi, nell'efficientamento energetico di edifici e nella promozione di CER, comunità energetiche rinnovabili, costruendo già da oggi un futuro basato sulle fonti rinnovabili, l'efficienza, la riduzione dei consumi e la democrazia energetica. Credo che al di là di quello che facciamo direttamente in questi anni siamo riusciti a interpretare il ruolo dell'alternativa possibile e che questo influenza anche attori molto più grandi di noi. Credo che alcune cose che stanno proponendo anche attori molto più grandi di noi non sarebbero stati possibili se noi, insieme ad altri ovviamente, non da soli, non avessimo lavorato in tutti questi anni per aprire delle strade. Veramente riuscire a dare la possibilità alle persone comuni di diventare protagonisti in un processo complesso come quello della gestione dell'energia è stata una scommessa arditissima e direi che l'abbiamo l'abbiamo vinta, insomma. Allora bisogna fare forse un po' di chiarezza rispetto a tutti i termini che ruotano all'interno di questa trasmissione, ma poi in realtà all'interno di tutto il discorso che ha a che fare con la transizione energetica, soprattutto se ci inseriamo nell'ambito diciamo pratico, burocratico, economico, eccetera, eccetera. Allora ragioniamo un po' su alcuni di questi concetti, lo facciamo ancora una volta dialogando con Enostra in particolare. Raggiungiamo quest'oggi Sara Gollessi, benvenuta nella nostra trasmissione. Grazie, buongiorno a tutti. Allora partirei con il concetto di, con il termine di cooperativa, perché Enostra è una cooperativa, che cosa vuol dire in ambito energetico? La cooperativa Enostra è una cooperativa che sostanzialmente è un'impresa privata, però è quello che noi definiamo un'impresa di comunità, cioè un'impresa in cui i soci sono parte dell'impresa stessa e si ispira diciamo sostanzialmente ai valori di partecipazione e condivisione. Partecipazione nel senso che i soci in qualche modo partecipano direttamente o finanziando le iniziative, ma anche proprio a livello di attività di sensibilizzazione, di partecipazione a quelle che sono iniziative che la cooperativa organizza e di condivisione e ovviamente dei benefici anche economici che si generano dall'attività e dai servizi che la cooperativa offre. Chiaro sì, anche se appunto di cooperative energetiche insomma si parla forse ancora un po' poco, eppure c'è uno sguardo sia italiano che forse soprattutto europeo rispetto a questo tipo di processi, c'è questa parola RESCOP che sta un po' al di sopra di tutto, ci puoi spiegare un po' di che cosa si tratta e anche un po' qual è la situazione europea, cioè insomma anche a livello magari di numeri, come stanno andando le cose. Allora, E-Nostra come vi dicevo è nata nel 2014 e in parallelo è nata nell'ambito di un progetto europeo, in parallelo a E-Nostra è nata RESCOP EU che è la federazione europea che raggruppa appunto e rappresenta tutte le cooperative energetiche di cittadini a livello europeo, tutte poi non è detto che siano tutte iscritte alla federazione però diciamo sono ad oggi oltre 2250 cooperative energetiche a livello europeo che a loro volta complessivamente rappresentano circa un milione e mezzo di cittadini europei, quindi insomma una fetta abbastanza rilevante del mercato elettrico ma insomma in generale della società, una fetta rappresentativa della società e quindi a livello europeo ha molte differenze da paese a paese perché chiaramente sia il concetto di cooperativa in sé sia il mercato elettrico quindi come questo concetto di cooperativa poi si traduce a livello del sistema energetico è molto diverso, ci sono situazioni molto diverse nei diversi paesi europei, ci sono situazioni in cui già storicamente a partire dagli anni 80 nascevano e sono nate molte iniziative collettive dal basso di cittadini come per esempio la Germania dove insomma tuttora c'è uno dei numeri più alti di questo tipo di iniziative, altri che ci si stanno facendo ora su questo sia mercato energetico liberalizzato sia sulla possibilità per i cittadini di parteciparci direttamente. Sì come dicevi tu è una bella fetta di popolazione europea anche dal punto di vista di società e quindi chiaramente insomma iniziative del genere possono emergere di più di meno anche proprio secondo un po' del tessuto sociale, di quale l'ambiente, di quale imprinting anche un po' culturale quindi c'è magari chi parte un po' più in quarta e chi invece insomma ci arriva un po' più più lentamente senza chiaramente stare ad indicare chi insomma fare delle classifiche l'importante può arrivarci alla fine in sostanza. Sì sì ovviamente anche proprio come è configurato il sistema energetico ma anche il mercato elettrico a livello nazionale ha influito molto sullo sviluppo di queste iniziative e non tutte le iniziative sono nate con le stesse motivazioni quindi anche questo ha influito c'è chi per esempio in Germania una buona fetta di queste iniziative è nata a seguito del famoso incidente di Chernobyl perché c'è stato un forte impatto sulla popolazione locale a livello proprio anche mediatico di questo evento il che ha portato molti cittadini ad attivarsi per sostituire la produzione di energia da nucleare che in alcuni paesi europei tuttora rappresenta una fetta sostanziale della produzione nazionale con altre fonti quindi con le fonti rinnovabili in altri paesi invece magari c'è stato più un discorso di autonomia energetica quindi sganciarsi da grosse imprese monopolistiche che in qualche modo controllavano il mercato in altri paesi ancora c'è stato più l'aspetto sociale economico di inclusività a guidare come driver queste iniziative quindi ogni paese poi ha seguito magari un percorso diverso e quindi è interessante anche all'interno appunto della federazione potersi confrontare con gli altri paesi per capire un po' come si sono sviluppati questi processi quali possono essere più replicati in contesti simili diciamo e magari evitando di rifare gli stessi errori che sono stati fatti da chi diciamo come pioniere ha attivato questi percorsi chiaro 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 un percorso che sta andando avanti si evolve cambia e vorrei però passare ad un altro termine perché forse un facile errore che invece possiamo fare noi nel raccontare queste cose anche semplicemente nell'approcciarci è sovrapporre un po' il termine cooperativa e comunità energetica che insomma sono le parole vagamente simili forse sentendole così un po' di sfuggita possiamo sovrapporle e invece si tratta di cose diverse possono essere magari complementari possono essere coesistere ma sono due cose diverse ci puoi spiegare allora magari un po' meglio che cos'è la comunità energetica invece? a cavallo fra il 2018 e il 2019 la commissione europea ha diciamo approvato un pacchetto di direttive il Clean Energy for All Europeans Package un pacchetto di direttive che rivoluzionava un po' tutto il sistema energetico europeo quindi questo pacchetto di direttive conteneva anche la cosiddetta direttiva rinnovabili 2 2 perché era l'aggiornamento di una precedente direttiva rinnovabili che ha formalizzato il concetto di Energy Citizen quindi di cittadino energetico e di cittadino che può agire o come singolo o collettivamente come gruppo di autoconsumatori gruppo di autoconsumo collettivo diciamo o proprio come comunità energetica in realtà la direttiva non entra molto nello specifico nel merito di come deve essere costituita una comunità energetica fornisce solo dei principi generali quindi lascia abbastanza margine di decisione ai diversi stati che dovranno poi recepirla tenendo conto proprio come dicevamo prima che ci sono delle situazioni abbastanza diverse sia come sistema energetico sia anche proprio come tessuto sociale su cui si vanno a innestare queste iniziative quindi la commissione europea ha indicato alcuni principi che se si vanno a guardare diciamo uno per uno ricalcano molto i sette principi della International Cooperative Alliance che citavo prima poi andando a vedere come diversi stati hanno recepito questa direttiva alcuni stati come l'Italia hanno deciso di includere dei criteri un po' più restrittivi tra cui quello di limitazione geografica di queste iniziative per cui di fatto le comunità energetiche rinnovabili a livello italiano sono state tradotte in una forma di iniziativa molto locale e adesso poi non entriamo magari nei tecnicismi però c'è stato un recepimento provvisorio che le limitava addirittura a le cabine cosiddette secondarie della rete elettrica quindi stiamo parlando per capirci di poche vie di un quartiere al massimo mentre adesso con il recepimento definitivo questo limite si ampliera un pochettino però chiaramente stiamo parlando di un contesto completamente diverso da quello in cui opera la cooperativa E'Nostra che è diffusa su tutto il territorio nazionale abbiamo soci in tutte le regioni italiane quindi in questo senso appunto E'Nostra potrebbe essere in qualche modo forse un contenitore una federazione a sua volta di magari comunità energetiche a livello locale e si è subito attivata la cooperativa per dare supporto alla nascita di queste iniziative a livello locale perché è un tipo di iniziativa appunto molto in linea con i nostri valori in cui crediamo molto ma sarà un'iniziativa veramente complementare con l'attività che fa la cooperativa che invece si sviluppa su un territorio nazionale con impianti di una scala magari un po' più grossa e che diciamo si orienta anche su progetti a livello di interazione con il mercato elettrico di diverso tipo rispetto a quelli che può gestire una comunità energetica soprattutto in queste fasi iniziali essendo ancora iniziative abbastanza allo stadio iniziale della loro crescita Per concludere andiamo ancora anche qui quindi a dare uno sguardo un po' più europeo se volessimo andare davvero nel dettaglio dovremmo prendere tutti i singoli paesi e fare un'analisi ci metteremmo ore e ore però visto che mi sembra di capire che ci sono poi le direttive singole e le indicazioni dei singoli stati insomma a livello europeo generalmente ci si sta muovendo in questa direzione si stanno stilando i vari documenti e le varie direttive paese per paese insomma siamo a questo punto Sì, Rescop se insomma qualcuno volesse diciamo farsi un'idea più precisa ha pubblicato sul proprio sito un tracker insomma una sezione del proprio sito dove va a monitorare aggiornandola mese per mese come se innanzitutto se i diversi stati hanno recepito questa direttiva andando a definire, a introdurre nella normativa una definizione di comunità energetica rinnovabile e quali stati si sono attivati anche per creare attorno a questa definizione un regime in qualche modo di supporto che può essere sotto forma di incentivi sotto forma di semplificazione delle autorizzazioni eccetera eccetera l'Italia ha avuto un percorso in questa traduzione della direttiva un po' particolare perché si è attivata fin da subito anzi in modo abbastanza tempestivo rispetto a come magari ci siamo mossi sul ricepimento di altre direttive dando un ricepimento però temporaneo e in qualche modo con delle limitazioni con l'idea di sperimentare vedere un attimino quali elementi andavano magari approfonditi ulteriormente se alcuni concetti tecnici anche che si era pensato di introdurre funzionavano poi nel nostro sistema elettrico e quindi c'è stato questo periodo transitorio a partire da inizio 2020 di fatto si è avviato il processo di ricepimento che ha portato alla nascita già di alcune iniziative che sono arrivate addirittura alla conclusione del loro percorso hanno formalizzato la costituzione del soggetto giuridico e si sono registrate sul portale del GSE stiamo parlando più o meno a livello italiano di un centinaio di iniziative non di più a fine 2021 il governo italiano ha approvato il ricepimento definitivo della direttiva europea tanto che appunto negli scambi con Rescop spesso ci chiedono di dare elementi su quella che è la definizione di alcuni concetti chiave come la condivisione di energia che è stata attuata a livello italiano perché altri paesi ancora non sono riusciti a dare una definizione di questi concetti insomma come ci dicevamo andare davvero nel dettaglio su questo tema avrebbe necessitato di un'intervista di ore e ore e sarebbe stato davvero faticoso per la nostra ospite senza altro e quindi ti ringraziamo grazie Sara davvero per questo contributo grazie ancora e noi ci risentiamo tra poco con la prossima parte della puntata facciamo un riepilogo una comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico che raggruppa dei soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente e virtualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili l'obiettivo è creare una rete decentralizzata di produzione consumo e scambio dell'energia con benefici ambientali economici e sociali grazie al sistema di produzione e consumo condiviso per cui è prevista una tariffa premio i membri della comunità energetica contribuiscono a generare un tesoretto che può essere ridistribuito tra i membri stessi o utilizzato per progetti a beneficio della comunità locale questo beneficio è inoltre accumulabile con alcuni incentivi fiscali si diffonde la produzione di energia rinnovabile al posto delle fonti fossili a cui si aggiunge una riduzione di perdite sulla rete elettrica nazionale grazie alla minore distanza da coprire tra produzione e consumo si stimolano l'aggregazione sociale la lotta alla povertà energetica e la cittadinanza attiva e si educa alla sostenibilità la partecipazione è aperta a diversi soggetti alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese agli enti territoriali e locali comprese le amministrazioni comunali agli enti di ricerca e formazione oltre agli enti religiosi del terzo settore e di protezione ambientale secondo Lega Ambiente in Italia le CER sono soltanto 100 tra realtà effettivamente operative 35 in progetto 41 o che muovono i primi passi verso la Costituzione 19 per una potenza complessiva installata di circa 1,5 megawatt e con la stragrande maggioranza degli impianti attivi nel nord Italia nei paesi UE a oggi sono più di 9.200 le comunità energetiche attive più della metà si trova in Germania che ne conta più di 4.800 a seguire la Danimarca con 700 circa la Francia con 200 e la Spagna con 150 a fondo classifica paesi come Bulgaria, Malta, Romania e Ungheria che ne contano poche unità si comincia dal basso quindi con le persone, con i cittadini, con le imprese, con i comuni serve qualcuno che sia interessato, motivato a fare una comunità e serve che quella persona cominci a cercare altre persone che vogliono fare la stessa cosa e da lì appunto con l'interesse e la motivazione ovviamente anche l'affiancamento di un percorso più specifico, tecnico possono porre le basi di una comunità energetica Allora abbiamo sentito parlare molto di comunità energetiche, di cooperative ne abbiamo parlato a livello di numeri, dati, anche di legge, di decreti insomma forse può sembrare un po' astratto volevamo invece andare a raccontare qualche realtà insomma un po' più concreta sul campo qualche esperienza già avviata in questo senso ce ne sono alcune di interessanti ad esempio in Sardegna e quindi proviamo a farcele raccontare da Maurizio Onnis e Marco Sideri Marco Sideri, sindaco del Comune di Usaramanna sono sindaco dal 2015 e nel 2019 abbiamo appunto pensato 19-20 di iniziare a creare un primo nucleo di comunità energetica rinnovabile che è appunto un'associazione che racchiude privati cittadini imprese, comune, con l'unico obiettivo che è quello di autoconsumare l'energia prodotta localmente Io sono Maurizio Onnis, sono il sindaco di Villanova Forru Villanova Forru è un piccolo paese che si trova a una cinquantina di chilometri da Cagliari nel sud Sardegna l'iniziativa della creazione della comunità energetica è partita esattamente da noi, cioè dal comune quindi siamo noi che abbiamo coinvolto il resto della popolazione Chiaro, chiaro andiamo insomma un po' in ordine cronologico da dove arriva questa idea? Come mai avete deciso appunto di coinvolgere la popolazione in questo tipo di progetto? Tanti anni prima della pubblicazione del decreto di qualche mese fa che ha reso tutto teoricamente più semplice quindi era ancora più complicato in teoria all'epoca Beh, nel 2020 l'Italia ha cominciato a recepire la Red 2 cioè la direttiva europea dell'autunno del 2018 che impone ai paesi membri di favorire in ogni modo l'autoproduzione, l'autoconsumo, lo stoccaggio e la vendita di energia da parte dei cittadini Quando il governo italiano ha fatto questo passo io ho pensato subito facciamo la comunità energetica si poteva fare già allora anche se i termini di legge erano differenti da quelli attuali qui in paese a dire il vero sono argomenti piuttosto attuali perché abbiamo creato un comitato ambientalista già all'inizio del 2014 dieci anni fa esatti l'ho creato io insieme ad altre persone io mi sono sempre occupato di queste tematiche da quando sono qua perché ho passato 30 anni fuori dalla Sardegna sono tornato nel 2013 quindi sono questioni su cui siamo sempre stati abbastanza allerta alla fine del 2020 è saltata fuori questa possibilità io ho deciso di coglierla al volo abbiamo parlato ne ho parlato con Marco Sideri il sindaco di Ussaramanna abbiamo deciso di farli insieme siccome non si poteva fare una comunità energetica unica ne abbiamo fatte due una per ogni paese ci siamo mossi quando c'era ancora la fase sperimentale quando ancora il terreno era abbastanza impervio e poco esplorato e quindi abbiamo proprio dovuto tenere in considerazione alcuni degli elementi che ora non ci sono più come per esempio quello di stare all'interno della stessa cabina secondaria di media e bassa tensione all'interno del quale dovevamo racchiudere tutti i soci e poi anche una serie di cose come per esempio anche definire il tipo la forma giuridica della comunità energetica non era affatto ovvio quindi abbiamo dovuto fare una serie di considerazioni di consultazioni e siamo arrivati poi a creare un'interno del terzo settore un'associazione per gestire la comunità energetica però è stato sicuramente un percorso abbastanza vincente che ha coinvolto i cittadini in maniera anche importante e ci ha reso anche abbastanza orgogliosi il risultato finale che è stato raggiunto in poco tempo per una pubblica amministrazione noi nel 2016 come comune abbiamo partecipato a un progetto europeo finanziato dal programma Interregmed che si chiamava Stores attraverso il quale abbiamo installato delle batterie di accumulo negli edifici privati che già avevano un fotovoltaico in questo modo l'idea era di rendere autonome 13 famiglie del nostro comune e studiarne i cambiamenti in termini di comportamento di consumo e i benefici che poteva avere questa operazione quindi all'interno di quel progetto l'idea era di rendere l'edificio autonomo l'edificio singolo ma noi appunto abbiamo pensato ma non è possibile che il vicino che produce magari l'energia in surplus la vada a dare al vicino di casa che magari ne ha più bisogno quindi questi sono i ragionamenti che abbiamo avuto in quel momento la normativa però non permetteva un po' cosa di simile se non fino al 2020 quando è stata appunto recepita la direttiva europea e si è potuto andare avanti in questo discorso proprio legando chi produceva e chi consumava localmente attorno a un unico organismo e quindi così siamo arrivati a quel momento e a questa scelta quindi lì è partito tutto l'iter il travaglio che poi ha portato alla costituzione della comunità energetica è stata una cosa piuttosto veloce a dire il vero nell'ottunno del 2020 ci siamo cercati il partner tecnico abbiamo fatto una prima assemblea con i cittadini nel gennaio del 2021 una seconda assemblea con i cittadini nel marzo del 2021 lo statuto della comunità energetica è stato sottoscritto firmato è registrato nel luglio del 2021 e l'impianto fotovoltaico della comunità energetica è stato installato tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 2021 quindi dal momento in cui abbiamo pensato di farla al momento in cui l'abbiamo dal momento in cui abbiamo avuto un impianto fotovoltaico installato e operativo pronto per l'uso sono passati 11 mesi chiaro chiaro e insomma il motivo per cui avete proprio cominciato con questa sperimentazione di natura economica o più ecologica proprio sinceramente francamente dunque gli elementi sono tre uno è sicuramente quello economico perché è chiaro che attraverso questa operazione si può comunque consentire al cittadino medio che partecipa alla comunità energetica di avere un piccolo sconto in bolletta chiamiamolo così o meglio rimborso di circa il 10-15% annuo che comunque non è tantissimo ma non è meno poco considerando che il cittadino non deve far nulla se non continuare a consumare il secondo elemento invece riguarda appunto l'aspetto più ambientale più di sostenibilità fare una scelta che ci consentisse proprio di dare una mano in qualche modo anche alla transizione energetica e la nostra piccola comunità pesa più o meno 62 tonnellate di CO2 l'anno risparmiate che non sono tantissime se chiaramente lo raffrontiamo al problema globale però localmente non è poco e se queste se la nostra realtà fosse replicata su larga scala chiaramente l'impatto sarebbe notevole il terzo elemento è quello sociale fanno una cosa interessante cioè si mettono attorno a un tavolo e discutono di una faccenda che li riguarda molto da vicino che è l'energia per prendere delle decisioni sulle loro stesse cose questa secondo me è la faccenda è la roba più importante della comunità energetica si tratta realmente di un esperimento di democrazia partecipativa gli incentivi legati all'autoconsumo locale legato alla comunità energetica sono assolutamente a disposizione dell'assemblea dei soci che decide come utilizzarli quindi può decidere di avere appunto uno sconto in bolletta come dicevo prima ma può decidere che una piccola parte venga indirizzata alle povertà energetiche oppure a famiglie in difficoltà in generale oppure a progetti di educazione al consumo insomma possono esserci tanti utilizzi e il cittadino quindi diventa in qualche modo protagonista in maniera democratica di quello che è un cambio proprio di strategia a questo punto di vista e quindi insomma la domanda è un po' banale e forse ci andrebbe una risposta di varie ore però come sta andando ma siamo proprio nella fase in cui riceviamo i primi incentivi perché vengono erogati dopo i sei mesi dalla costruzione ufficiale dal riconoscimento e abbiamo in programma proprio in questi giorni i primi incontri con i cittadini per decidere in che modo utilizzarli in che modo distribuirli tra gli aderenti sta andando secondo il mio punto di vista molto bene il progetto nel suo complesso perché è un qualcosa che attira l'interesse del cittadino prima di capire come sono andate davvero è meglio aspettare la chiusura di un anno intero di attività anche un anno intero di recepimento degli incentivi a quel punto potremmo capire sul serio quanto ha fruttato dal punto di vista il denaro e cosa ha funzionato cosa non ha funzionato su altri versanti in generale posso dire che è andata bene e che va bene non può non andare bene perché l'investimento è stato fatto dall'ente locale abbiamo installato questo impianto con i soldi del ministero dell'interno soldi che ogni anno il ministero dà ai piccoli comuni per l'efficientamento energetico i cittadini non hanno dovuto fare assolutamente nulla non è stato chiesto loro niente ti assicuro che rispetto ad altre occasioni in cui magari il comune cerca di coinvolgere la popolazione in scelte strategiche o in discussioni di vario tipo questo della comunità energetica è un tema che interesse coinvolge molto maggiore in maniera molto maggiore rispetto ad altre tematiche e lo vediamo proprio dalla partecipazione alle assemblee che sfiorano l'80% degli aderenti e quindi è sicuramente un segno di apprezzamento per il progetto e di voglia di dire la propria in questi temi penso di poter dire che la popolazione di questi paesi è comunque favorevole a novità di questo tipo se tutto viene spiegato se tutto viene raccontato adeguatamente se si discute se c'è la possibilità di capire in realtà sono le amministrazioni che spesso tirano indietro perché perché sono questioni lunghe oddio lunghe fare la comunità energetica in un paese come questo prende comunque molto meno tempo di quanto servirebbe per fare 100 metri di strada asfaltata perché lì bisogna fare gare chiedere autorizzazioni sovrintendenze paesaggistica un disastro della miseria però gli amministratori locali si fanno spesso spaventare proprio dalla novità certo una lungaggine forse più percepita che non poi effettiva per guardare appunto abbiamo parlato del passato del presente proviamo a dare anche uno sguardo un po' al futuro insomma c'è l'intenzione quella di mantenere le cose così come stanno oppure invece di espandere un po' noi abbiamo passato il 2022 il 2023 a mettere pannelli fotovoltaici su altri immobili comunali qui gli immobili comunali sono tutti i tetti di tutti gli immobili comunali sono coperti da pannelli fotovoltaici la legge però impone che le comunità energetiche si basino su impianti installati dopo una certa data quindi abbiamo dovuto metterne altri nuovi non abbiamo potuto usare quelli che c'erano già e l'intenzione è certamente di allargare la comunità energetica a tutto il paese perché adesso riguarda un centinaio di persone diciamo su circa 550 600 penso che la allargheremo a tutto il paese e poi ora che c'è un decreto energia la normativa è cambiata la espandiamo e ci uniremo a Ussaramanna facendo una comunità energetica unica e si unirà a noi un terzo paese il comune di Siddi che si trova qua vicino in modo da averne alla fine una sola che coinvolga tre municipalità differenti per fare un po' di massa critica quindi abbattere sicuramente qualche costo fisso e anche i costi tra virgolette di gestione che non sono tanti in termini economici ma quanto in termini anche di tempo che dedica magari il cittadino che si presta a guidare un po' le associazioni di questo tipo e quindi l'idea è proprio di creare un qualcosa di più grande a livello intercomunale in modo proprio da agevolare questo tipo di situazioni e questi scambi anche a livello territoriale non solo micro quindi questo è un po' quello che ci siamo posti e stiamo cercando di realizzare nel breve medio termine beh speriamo davvero che possiate farcela davvero in bocca al lupo ma intanto per questa chiacchierata grazie mille grazie davvero vive il lupo grazie a voi sempre un piacere e allora grazie molto a Marco Maurizio per averci raccontato queste loro esperienze la prima puntata di Kilo Watt Talk si chiude qui noi ritorneremo mercoledì prossimo ci occuperemo in maniera molto specifica di energia solare quindi non mancate ma per ora buona serata grazie a tutti